In un avviso del Comune di San Cataldo si porta a conoscenza degli interessati che l'istanza per essere ammessi al beneficio del servizio di trasporto pubblico degli alunni pendolari per l'anno scolastico 2017-2018 va presentata entro il 31 agosto 2018. Il contributo si riferisce al solo costo del trasporto interurbano. L'erogazione riguarda gli alunni della scuola media superiore che si recano presso altri comuni più vicini per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie il cui indirizzo non è presente nel Comune di Residenza. Il rimborso varia in base alla condizione e alla fascia di reddito ISEE. L'istanza deve essere consegnata all'ufficio protocollo del Comune di San Cataldo.